Ciao, sono Sam di Fuoriestrada e oggi vediamo insieme come smontare la visiera di Caberg Driftevo 2. Dunque, come sempre la visiera va aperta del tutto, quindi bisogna arrivare fino all'ultimo scatto qua sopra e poi tramite questa levetta si abbasserà una sicura. Una volta abbassata la sicura toglieremo la visiera tirandola verso l'esterno. Quindi a visiera alzata alziamo la sicura e tiriamo verso l'esterno, così la visiera si staccherà. Per riattaccarla alziamo nuovamente la sicura, vedete il movimento, infiliamo tutti e due e lasciamo andare e la visiera sarà in posizione. Ora abbiamo visto come smontare una visiera trasparente, ovvero quella fornita con il casco. Per quanto riguarda la visiera scura avremo meno visibilità, perché giustamente il meccanismo e gli agganci si vedranno meno, ma il procedimento è comunque lo stesso. Quindi si apre del tutto la visiera, si alza la sicura e si tira in fuori. Stessa cosa per rimetterla dentro, si alza la sicura e si rinfila. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un mi piace, se hai qualche curiosità anche in merito a questo casco utilizza qui sotto la sezione dei commenti, rispondiamo sempre molto volentieri. E noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao motociclista! Il meglio al miglior prezzo